Angelo Morelli che stamattina ha annunciato anche una novità che riguarda il premio relativo al fair play finanziario, forse il premio più attuale al momento. Sì, premio che sostanzialmente è maturato dopo tanto tempo, avevamo iniziato nel 2011 sotto traccia quando fu premiata la UEFA perché aveva imposto queste regole nel mondo del calcio, però sembra che sia veramente arrivato il momento di aggiudicare questo scudetto del fair play finanziario perché è giusto che anche nel mondo del calcio si comincia a parlare molto di più del fair play, non solo negli spettatori ma anche nelle società di calcio. Come funziona e quale sarà la giuria che poi valuterà le società? La giuria si sta costituendo e fra 15 giorni è una giuria specifica fatta di esperti tributaristi e commercialisti e si riunirà dandosi dei parametri che poi saranno basati sulla logica dei bilanci che le società di Serie A consegneranno al 30 giugno, dopodiché attraverso questi parametri si aggiudicherà questo riconoscimento con lo scudetto e la maglietta del fair play finanziario.